Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Roberto Borrelli, oggi guardiamo ancora il mio programma SOM90 per chiarire alcuni punti, per aiutare chi già ce l'ha, chi ha già questo bellissimo software per Windows e anche per dare qualche informazione, magari per convincere qualcuno che vorrebbe un ottimo programma che dia direttamente pronostici pronti, che calcoli direttamente pronostici pronti e magari potrebbe scegliere proprio questo, che oggi l'ho messo a un prezzo più basso quindi chi lo volesse segua per questa offerta di primavera, l'ho chiamata segua sotto il link come ottenere questo software, questo programma oppure mi scriva direttamente su whatsapp, trovate il mio numero in alto a destra bene, a questo punto vi chiedo di mettere subito il like, mi piace ok, e iscrivetevi al canale se non siete già iscritti quindi smarcate la campanellina, spuntate la campanellina per essere avvisati ogni volta che metterò un nuovo video ripeto, i video servono per tante cose qualche volta ci sono i pronostici, qualche volta sono degli esempi di utilizzo qualche volta chiariscono dei punti perché è bene saperli usare bene i programmi io sono contento quando i miei programmi vengono utilizzati altrimenti se dovete prenderlo per tenerlo lì da una parte non prendetelo, prendete i miei programmi solo se poi potete seguire un attimo questi piccoli video per capire come si utilizzano ma è veramente facile piccolo preambolo, insomma l'abbiamo fatto hai messo il like, metti subito mi piace che continuiamo, pronti? da quanto tempo preparo programmi? studio algoritmi? da quanto tempo? sono ormai 22 anni e quindi ci sono alcuni di voi che mi conoscono da 22 anni e ancora oggi comprano, acquistano nuovi programmi oppure aggiornamenti di quelli precedenti, di quelli vecchi 22 anni ragazzi, non è che è poco mia figlia era appena... no, doveva nascere ancora perché era il 99 anche se io ho cominciato molto prima perché io addirittura facevo programmi negli anni 80 utilizzando il comodo 64 e già mi piaceva quella volta era bellissimo chiaramente con quei computer di quella volta si poteva fare poco o niente insomma ma con quelli di adesso si fanno delle cose incredibili quindi ecco chi avesse deciso di seguire i miei programmi fa assolutamente bene perché vi regalo l'esperienza di oltre 22 anni di programmazione di studio ma anche di oltre 30 anni di applicazione al gioco dell'otto bene, questo è uno dei miei migliori programmi l'ultimo uscito praticamente Somma 90 si chiama Somma 90 ma non è che trova solamente le somme non avrebbe senso questo fa una serie di controlli a ritroso incrocia due algoritmi non uno ma due algoritmi e svolge una funzione particolare quella di scoprire tentare di scoprire perché la sicurezza non ce l'abbiamo mai dove potrebbe sortire il 90 nelle prossime estrazioni quando non c'è questa possibilità del 90 allora propone direttamente un pronostico fatto di una quartina o due ambi due ambi secchi una quartina su due ruote oppure insomma se c'è il 90 propone il 90 con i suoi abbinamenti e vi faccio vedere che cosa può succedere una volta che abbiamo aggiornato il programma cliccando su server 3 che è quello più veloce oppure server 2 o server 1 non importa però il 3 è il quello più veloce di tutti ecco una volta che l'abbiamo aggiornato nelle estrazioni accediamo alla videata di ricerca vedete questo bottone accedi alla videata di ricerca e otteniamo questa videata dove è possibile che otteniate il pronostico nuovo anche magari con il 90 come succede adesso chi c'è il programma oggi o chi lo prendesse proprio oggi scusate che ho il naso un po' chiuso perché non so stato tanto bene e chi quindi ho la voce un po' strana e dicevo chi avesse il programma già oppure chi lo prende oggi entrando nella videata di ricerca trova un pronostico con il 90 e quindi può seguire quello assolutamente però chi ha già il programma ha visto che nelle ultime estrazioni è successo che c'erano pronostici non validi vedete questo non valido cosa vuol dire? che il programma non ha trovato le condizioni adatte non ha trovato neanche uno dei due algoritmi con le condizioni adatte per provare un pronostico per realizzare un pronostico e quindi non ha dato non ha dato il pronostico stesso questo fatto di dare questa voce non valido di dimostrare questa voce può succedere anche in più estrazioni di seguito infatti qui è successo per diverse volte di seguito tant'è che qualcuno mi ha telefonato dicendo ma come non funziona il programma non trova i pronostici questa è una cosa che può succedere assolutamente tanto è vero che è un programma che genera pochi numeri perché in un mese non ve ne genera uno a ogni estrazione un pronostico a ogni estrazione ma genera un pronostico un altro pronostico poi magari non ci sono le condizioni quindi nessun pronostico poi ancora nessun pronostico poi magari un altro in questo caso vedete era successo che il 26 marzo pronostico il 26 marzo non valido la volta prima 24 marzo non valido 22 non valido 19 non valido uno diceva ma come non funziona ma è normale questo può succedere benissimo non vi spaventate poi magari così tanto non succede più 17 marzo non valido poi dopo ne aveva dato uno ancora non valido subito prima allora cosa succede in questo caso si prende diciamo se alla nuova provando ultima nuovo pronostico abbiamo che non viene calcolato quello nuovo quindi avete la scritta non valido potete andare indietro come ho fatto io e per esempio qui sono arrivato al pronostico basato sulla estrazione del 10 marzo 2022 quindi non avendo nuovi pronostici ne seguo uno di quelli precedenti vedete questi bottoncini questo a destra va avanti così questo a sinistra in mezzo va indietro di una questo qui a sinistra va indietro di 20 per volta quindi questo lasciate lo stare non serve diciamo questo qui centrale può essere interessante no? perché andiamo indietro finché non prendiamo un pronostico valido questo è valido era valido per ambo quindi ci sono due ambi l'ambo principale è anche su tutte vale? e poi c'è l'ambo secondario poi come quartina per ambo eterno e guardate anche che attenzione che qui sotto c'è questo bottoncino così ecco vi spiego anche come funziona se voi cliccate vi dice quali sono le migliori posizioni per il primo numero cioè per il 54 che è l'ambata l'ambata migliore chi cerca l'ambata questo è un programma fantastico perché vi dà l'ambata su due ruote una sola l'ambata ma vi indica anche le posizioni migliore posizione Milano in seconda e a Firenze quinta e terza va bene? questo bottoncino qui sotto ok ho cominciato a giocare questo pronostico quindi e qui a destra vedo i risultati al primo colpo niente secondo niente terzo niente quarto niente che faccio vado avanti perché tanto dopo non c'erano pronostici nuovi quindi perché abbandonarlo vedrete che dà comunque risultati può dare risultati adesso la sicurezza ragazzi non ce l'ha neanche il mago insomma un mago che non esiste un mago i maghi non esistono quindi nessuno può avere la sicurezza andiamo avanti controlliamo controlliamo gli esiti ancora successivi quindi controlliamo insomma i colpi successivi questo è il quinto niente c'è un 59 che stava qui ovviamente attenzione mi segnala in rosso solo i risultati sulle due ruote indicate Milano e Firenze insomma che cosa succede visto che non c'erano pronostici nuovi uno portava avanti questo arrivava l'ottavo colpo nono colpo e al decimo c'era Lambo ok 54 27 54 27 Lambo in quartina che non è male paga bene Lambo in quartina 40 volte l'ordero quindi è sicuramente un risultato al decimo colpo va bene ma sono pochi numeri non ce n'erano altri davanti li porto avanti questo è il programma ideale per chi vuole un programma con pochi pronostici da portare avanti perché non ti dà tutte le volte un nuovo pronostico anche se ripeto oggi oggi chi ha questo programma o chi lo volesse avere lo prende aggiorna le stazioni e trova un nuovo pronostico col 90 seguite quello proprio bene andiamo questo è dato il risultato al decimo colpo vediamo cosa è successo ancora prima sono andato ancora indietro arrivo al 3 marzo 2022 dove ho un pronostico con 90 posso seguire questo visto che poi nel tempo ci sono pronostici non validi quindi magari seguo questo che sta proprio all'inizio del mese 3 marzo ce n'è un altro al primo di marzo ma questo qui era al 3 marzo seguiamo questo ok vediamo che risultati ha dato cominciamo a vedere il controllo esiti qui a destra andiamo avanti primo e secondo colpo niente terzo niente quarto niente quinto niente e mi trovo nel sesto niente mi trovo nella situazione di prima cioè non ho nuovi pronostici perché non vengono calcolati non ci sono le condizioni che faccio anche se sono arrivato al sesto colpo con questo e non ho dato risultati proseguo vi faccio vedere anche che spesso può servire proseguire per avere magari qualche risultato dopo vi ripeto sono pochi numeri quindi si seguono facilmente andiamo al settimo colpo niente 8 9 al decimo colpo o l'ambo su palermo palermo beh attenzione che qui parliamo di ambo secco perché questo si gioca facendo gli abbinamenti 90 58 90 74 90 61 quindi è vero che ho giocato 10 volte ma è un ambo da 250 volte la posta 250 volte la posta ok col 90 insomma questo è stato sicuramente interessante vediamo anche la posizione dove è sortito ok clicchiamo questo bottoncino sotto il 90 vediamo che la miglior posizione a palermo era la seconda io avrei giocato seconda e quinta seconda e quinta vedete sono le barre più alte no è uscito in quinta ma è interessante l'ambo ok attenzione che c'è qualcuno che con questo ha preso sia l'ambo che il 90 in posizione bene ecco questo era per spiegare insomma che se non ci sono pronostici si può portare avanti adesso in questo momento ci sono nuovi pronostici con il 90 all'ultima estrazione quindi potete seguire assolutamente quelli bene quindi abbiamo visto come come funziona il mio programma per windows somma 90 vi raccomando di prenderlo oggi perché l'ho ribassato parecchio per qualche giorno per dare più possibilità a tutti di averlo è un algoritmo riservato c'è qualcuno che dopo averlo comprato dice beh adesso mi dici come si fa cosa vuol dire come si fa il programma lo usi così non è che io rivelo gli algoritmi insomma anche perché farli a mano cioè sarebbe impossibile cioè i calcoli che fa questo programma a mano ci metteresti 35 anni a farli quindi assolutamente impossibile lasciate perdere quei metodini un numero più un altro basato su niente se magari c'è un riferimento statistico quello può essere ma altrimenti lasciate perdere insomma metodi che non hanno senso chi ha un computer chi è appassionato di lotto e ha un computer non può non avere i miei programmi questa somma 90 è anche l'otto più più che tanti di voi la maggior parte di voi già hanno ma questa somma 90 prendetelo non perdete quello che è importante va bene ragazzi ci sentiamo grazie io adesso mi prendo un'altra aspirina e ci sentiamo alle prossime per favore se ti trovi bene con i miei programmi lascia un commento sotto che mi fa sempre piacere ciao a tutti e grazie ancora per l'attenzione grazie a tutti